Lentini, la polizia pizzica un 77enne con un coltello a serramanico denunciato per porto illegale. Agente del commissariato di pubblica sicurezza di Lentini hanno denunciato per il reato di porto abusivo di arma da taglio un uomo di 77 anni di Lentini. Nello specifico, a seguito di una segnalazione pervenuta dal commissariato, gli uomini, diretta dal dottor Monaco, intervenivano nei pressi di via Ciuciulla dove era stato segnalato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta all'interno del parcheggio condominiale. Tale segnalazione era stata preceduta a giorni antecedenti da altre dello stesso tenore, allora quando un condominio aveva denunciato più volte il danneggiamento dei pneumatici della propria autovettura squarciati da un oggetto tagliente. Sul posto, gli operatori della volante identificavano e sottoponevano a controllo il sospetto che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'uomo è stato identificato e denunciato.